Ciao amiche, oggi voglio farvi un indovinello. Ah, cosa sto facendo in questo momento? Ah, secondo voi? Ah, avete indovinato? La soluzione è questa. Ah, una ceretta da mia sorella estetista da Priscilla, via Prenistina 113. No, non è pubblicità. È solo per dire che io ho pochissimi peri davvero, ma per i pochi che ci sono, meglio toglierli. Ah, buona ceretta a tutte. Ah.